Buongiorno ragazzi, oggi ho deciso di regalarvi un metodo generato dal software L'Occhio della Tigre. Lo regalo a tutti sperando che vada in cassa. Però prima di regalarvi questo metodo, prendete innanzitutto carta e penna che poi vi segnerete il metodo perché non so se lo terrò online per sempre oppure poi lo elimino. Allora, prima di darvi questo metodo, volevo precisare qualcosina. C'è poi qualche persona che mi chiama al telefono, mi dice, credo che capirà a questa persona che mi riferisco a lui, mi dice che lui si sta tranquillo, non sta facendo niente perché io attacco, eccetera. E poi il suo socio ieri parlava dei sommativi. Dice, ma perché ti senti toccato con i sommativi? Perché io, a me, ognuno piace lavorare con un tipo di, diciamo, algoritmi, chiamiamolo algoritmi, perché c'è chi usa i metodi a condizione, chi usa i metodi sommativi, chi usa i metodi ciclometrici, chi usa i metodi spaziometri e chi più ne ha più ne mette. Però, quando poi io, io sono capace anch'io, casomai se ho tempo domani vi farò vedere come si creano i metodi a condizione, ma se a me piace creare e spaziare, perché poi non sono semplici sommativi che faccio io, infatti, quello che vi darò fra poco, vedrete che non è un semplice sommativo, cioè non è il primo di Bari più uno, oppure il primo di Bari meno il secondo di Cagliari, ma è un po' più complesso e questo tipo di algoritmi ce ne sono almeno 111 milioni di combinazioni con questo tipo di algoritmi. Bene, ritornando a noi, stavo dicendo, allora, se uno mi dice che i sommativi sono blef, io rispondo così a questa persona, che il vero blef, ascoltatemi bene ragazzi, il vero blef è vendere un software con 20 metodi, ogni metodo genera dalle 2-3 previsioni, quindi fatevi minimo 2-3 previsioni, fatevi un po' i conti, 3-3 previsioni, 60 previsioni in gioco, ok? E poi entrare su YouTube e fa vedere se è vinto col software, ok? Questo è il vero blef, perché non si è vinto col software, si è vinto con uno dei 20 metodi del software, quindi c'è una bella differenza, ma è un blef dire se è vinto col software, se è vinto con uno dei 20 metodi del software, oppure delle 60 previsioni che ha generato il software, questi dovete dire, mi dispiace, poi non mi dite che io vi attacco, se siete i primi a attaccare chi fa i sommativi, e allora, poi non dite anche io faccio i sommativi, se già hai giudicato i sommativi, un blef, già hai dato una brutta reputazione a chi fa, lavora anche con i sommativi. Il vero blef, lo ripeto, è questo, il vero blef è venire ogni giorno su YouTube e dare una previsione al giorno, poi se si è in due, sono due previsioni al giorno, e poi fa vedere che dopo tanto tempo esce qualcosa. Questo è il vero blef, quindi smettiamola di criticare il lavoro degli altri e vedrete che Rosario Gallo non attacca più nessuno. Sono stato tranquillo per tanto tempo, poi basta, mi sono scorciato di sentire dire sempre le stesse cose, perché le persone, logicamente, devono attirare, devono portare l'acqua al loro mulino. Allora cosa fanno? Screditano i sommativi, ok? E, poiché a loro piace lavorare con metodi a condizioni, che se andate a vedere, ci sono dei metodi in quel software che è da un po' che non fanno un cavolo, però questo non lo dicono, dicono solo che si è vinto col software, e poi vi fanno vedere due scontrini. Perché vi fanno vedere due scontrini? Perché due scontrini vi possono far vedere, perché le persone non possono giocare 60 previsioni, ok? Bene, io chiudo qua, spero di finirla qua, poi non ditemi che io sono quello che attacca le persone. Fatevi il vostro lavoro, senza screditare quel che sia il lavoro di quello, perché anche io potrei dire che ci sono tante persone che hanno 20 gruppi abbonati, oppure che danno 20 previsioni al giorno, e poi c'è qualcuno che può sentirsi toccato, ok? Bene, detto questo, ragazzi, andiamo a vedere cosa si è vinto nel gruppo l'occhio della tigre. Andiamo a vedere. Questa è la previsione che avevo dato nel gruppo l'occhio della tigre. Avevo dato anche, specifichiamo che avevo dato anche un'altra quartina, è una cinquina. Però avevo dato questa qua, l'ho chiamata la quaterna, come vedete, la quaterna dell'occhio della tigre, e ieri è stato centrato l'ambo in quartina, 32, 80 su Bari. È uscito il 63, noi avevamo, cioè è uscito il 61, noi avevamo il 63, peccato, veramente. Bene, questa quaterna si cambierà, ok? Metteremo di nuovo la quaterna dell'occhio della tigre, la nuova previsione, appena ho fatto i calcoli. Ok ragazzi, bene, detto questo, ragazzi, carta e penna, carta e penna. E dovete anche munirvi di una calcolatrice, perché non sono calcoli semplici, sono dei calcoli un po' complessi. Quindi dovete prendere con la calcolatrice e fare questi calcoli, ok? Il metodo si applica alla sesta estrazione del mese. Se andate a controllare gli esiti, ha dato, sono dieci mesi che dà sempre esito positivo, e ha dato anche tanto i bellissimi quaderni, e adesso vi farò vedere il metodo, andiamolo a vedere. Scusate, stavo dimenticando di farvi vedere alcune testimonianze, se no poi qualcuno dice, ma hai fatto vedere la previsione, ma non ha vinto nessuno. No, hanno vinto le persone nel gruppo l'occhio della tigre. Andiamo a vedere qualche altra testimonianza. Un po' di pazienza, ragazzi, devo far vedere gli scontrini, perché poi la gente dice, non ha vinto nessuno. Invece, ragazzi, hanno vinto nel gruppo l'occhio della tigre. Logicamente è una piccola vincita, a volte non voglio nemmeno farle vedere questo vincita, perché io con la quartina miro dal terno in poi, non miro dall'ambo, anche se, logicamente, non lo buttiamo, un ambo che qua saranno circa 80 euro, non mi ricordo quant'è, con... Allora, 2 euro sull'ambo, mi sembra sono... Sì, saranno circa una tantina di euro, se non sbaglio. Sono 40 più o meno, togliendo le tasse. Bene, andiamo a vedere qualche altra testimonianza, e poi passo a regalarvi il metodo l'occhio della tigre. Quindi, carta e penna, ragazzi, il metodo l'occhio della tigre. Dovete prendere carta e penna e una calcolatrice per poi ricavarvi la previsione che va messa in campo da domani sera. C'è chi mi manda anche lo screenshot della vincita ottenuta online. Logicamente c'è chi gioca anche online. C'è chi ha giocato con l'8+, eccolo qua, sempre il 3280 a Bari. Bene, ragazzi, io credo che possa abbassare così. Poi c'è stata anche una piccola vincita con la cinquina che abbiamo dato, che è uscito l'ambo in cinquino su... se non sbaglio, su Bari. Un attimo che controllo. Allora, dove era? Non mi ricordo adesso, però devo passare. Aspettate un attimo che vado a vedere. Sì, della cinquina c'è stato il 378, ambo in cinquina a Cagliari. Bene, detto questo, ragazzi, avete preso carta e penna, calcolatrice. Poi, chi non riesce a fare i calcoli, gli do io la previsione calcolata, però preferirei veramente, ragazzi, preferisco che fate voi i calcoli, così mi dimostrate, che mi seguite, mi mandate anche il calcolo effettuato. Mi dovete mandare il calcolo effettuato, dicendo, Rosario, ho fatto i calcoli, è giusto? Ok, accetto più quello che chi mi dice mi fa i calcoli, perché significa che non avete proprio voglia di fare niente, ok? Bene, andiamo a vedere i calcoli del software L'Occhio della Tigre. Eccoli qua, ragazzi. Vedete, non sono i semplici sommativi, calcoli sommativi, che qualcuno definisce blef. Sono, poi ce ne sono anche altri algoritmi, tipo bari alla quinta, o tipo espressioni, che logicamente non sono semplici e sommative. Ed inoltre, per elaborare questo tipo di calcoli, ci vuole un software con almeno 20 giga di spazio nel software, perché anche se vorrei vendere il mio software, se non hai un 20 giga di RAM, gigabyte di RAM, questo software non riesce a calcolare tutti gli algoritmi, perché si blocca per memoria piena, quindi difficilmente tante persone potrebbero poter avere questo software, anche se decidessi di venderlo. Ok? Bene. Allora, eccoli qua, ragazzi. Per calcolare l'ambata, la stessa situazione del mese, cosa si fa? Si fa il quinto di Bari, più il quinto di Gemini, più il quarto della ruota nazionale, RN, ruota nazionale, più 12. Il risultato si moltiplica per 64. Ok? Vi spiego solo la prima quartina, poi la seconda quartina c'entra, fate voi. Allora, per farvi capire, RN è ruota nazionale, RM è Roma, ok? Per non confondervi. Poi, il secondo, per fare l'abbinamento per ambo, che facciamo? Il quinto di Bari, più il primo di Venezia, più il secondo della ruota nazionale, più 65 per 77. Ok? Poi, l'abbinamento per Terno, per la prima quartina, il terzo di Bari, più il primo di Cagliere, più il quarto di Genoa, più 33 per 67. Poi, l'abbinamento per Quaterno, il secondo di Bari, più il terzo di Torino, più il primo della ruota nazionale, più 21 per 84. Ok? E avete la prima quartina da mettere in gioco su Bari-Cagliari, per ambo, Terno e Quaterna. Si inizia a giocare dalla prossima estrazione del mese, cioè, la prossima estrazione di questo mese, cioè, nel... Oggi ne abbiamo 12, si inizia dal 13 giugno 2024 e si porta avanti per 10 colpi. Ok? Poi fate i calchi della seconda quartina e della terza quartina. Ok, ragazzi? Io con questo finito spero di stare tranquillo, di non sentire più criticare il lavoro degli altri, che sia un sommativo, che sia un ciclometrico, che sia uno spaziometrico, che sia un metodo a condizione. Fatevi il vostro lavoro, ragazzi. Siamo tutti tranquilli. Fate vedere i vostri risultati. e nessuno vi rompe più le scatole. Bene, io con questo ho finito. Buon mercoledì a tutte, buone vince sempre con Rosario Galle con previsionevincenti.it grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.